Piccolo disclaimer, questo video che starete per vedere è il continuo di un video già iniziato quindi vi lascio in descrizione e anche qui in alto a destra la prima parte quindi se me la siete persi andate a recuperare se invece l'avete già vista, buona visione Secondo giorno, inizia la grande Ma quindi oggi andiamo a quell'altro impianto? Beh sì sì Fredo qui, c'è più freddo Senti il muro? Sentilo lì, io penso ci fossero gli spifferi È il muro ghiaccio Adesso sto sentendo un po' di tepore Ma perché sono tutto termico Cioè sto bene adesso, immaginiamo fuori Sapete no, le mie disavventure con il drone io le avevo portate in montagna anche per fare qualche ripresa ma mi sono dimenticato la microSD e quindi non mi serve a niente Oh belle scarpe Belle scarpe Lo sapete che bisogna dare con i guanti sulla neve La metà del percorso, mancano altre due seggiri per arrivare su in cima Oggi si presuppone una bella giornata Fa un freddo pane Io continuo a ripeterlo Scena muta, in più mi tremo anche la mano Solo la paura di partire Questa in cima Ah è vero, forse questo qui era l'ultimo Bella roba Guardate il fi, ci riparte Bravo, bravo Bravo, no Peccato Vieni qui che sono io Oh, bravo Vieni qua, no, dove vai? Guardate un busco Guardate un busco Forte, non è stato semplice questo qui eh C'è, sento il dinamico nuovo, sento la lama la porta Bravi, bravi tutti Sono le 11.36 Il sole è completamente scomparso E in più sta iniziando a nevicare Non so se riuscite, no, a vedere, dubito Però Sembra un'altra giornata Tutto questo in quanti minuti? Ma secondo me non è una mezz'oretta Però la neve è tutto più magico no? Quasi non si percepisce il limite tra la montagna e il cielo Vedi? Esatto, bravo Bravo Stai iniziando a capire Vorrei fare il poeta Grissimboong, grissimboong, grissimboong Poi con la neve la gente inizia ad avere un po' di paura, no? Paura sulla neve Ah no, no Cioè, questa nevicata qui è anche... Soft Esatto, rilassante A me piace Pericolo di valanghe È molto mal di gola Mi sa che è stata per la neve che ho mangiato Ah beh No, io faccio video Bravo, spazzaneve largo Peso un filino più avanti Magari Andiamo Dai, dai che stai andando bene Che pace Eccolo che arriva Spunta dalla collina Vai Tutta tua Adesso Tutto bene? Andiamo giù diretti Dai, cerchiamo di andare giù senza pause Ce la puoi fare Io credo in te Andiamo fra, grande Andiamo Vai, si va Oddio Arrivati adesso a casa Non è nemmeno tardi Perché manca 20 alle 4 Però alle 4 e mezza inizia Tipo l'aperitivo Con la montagna Ye E ci volevano andare Quindi Oggi è stata pesante Più che altro per anche il clima Niente Alla fine hanno annullato Quello Quello che dovevamo andare a fare O meglio Così avevano scritto Sul profilo ufficiale Su Instagram Rimandato Per mal tempo Lo avevano rimandato A domenica Quindi il giorno dopo Bene Dopo qualche ora Abbiamo aperto Instagram E magicamente La preschia l'avevano fatto C'era gente che aveva messo storie Allora Caro amministratore Dopo aver detto Di averlo rimandato Perché non hai detto anche Che in verità Lo facevate comunque Che scam è questo Ma Vabbè Andiamo avanti Ma Vuoi sapere cosa dice L'esercitatore Lo vuoi proprio sapere Cosa dice l'esercitatore Lo prendo come un no Allora abbiamo L'arrizona Al melograno E quello Normale Adesso provate questo Sì sì che quello al melograno Pensavo fosse più forte Sinceramente Come sapore In verità è abbastanza tenue Mi piace Mi piace Il problema è che Qui l'abbiamo pagato 1,60 euro Invece a Cecina Mi hanno detto almeno 3 Forse per questo Non l'ho mai preso Quindi adesso ho provato Questo qui E domani proveremo L'arrizona Original Che boh Penso sia tè verde Normale Sai se costassero di meno Ti prenderei più spesso Questi tè Boh Per oggi direi Basta Buonanotte Non posso dire così Allora Dove sei? Dove sto andando? Ma cos'è sta roba? Pare, 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 sto vedendo Mi sto inabissando Mi puro qua Ho il braccio sotto di te Dai pare che hai svegliato Te l'ho detto non facciamo vivere Si è cagato a base Ma voi siete Lui dorme per lui Adesso abbiamo pensato Non sai quanto tempo Stavo dormendo Oggi il tempo Non è dei migliori Allora da 7 siamo rimasti Quattro Questa qui è neve fresca Sa che molto probabilmente è finita qui 50 euro di ski pass Il giorno in cui abbiamo pagato di meno Abbiamo scelto un menore Troppa Troppa nevicata Oddio L'ultima Ora non si può dire È stata l'ultima È andata Non meglio non dirlo E Adesso Ma L'albertino? 9 marzo Ah cavolo Non ci siamo Vediamo un po' Cosa combiniamo adesso Che cos'è? Guarda Qui non può essere pulita Dai Ma esatto Qui non ci hanno messo solamente niente Ci avevo messo lo zucchero, non il sale Qui c'è la porta aperta Sta continuando a venire una quantità di neve Improponibile Per farvi capire Non so quanto possiate capirlo Ma il problema è che Francia è bloccato Non sarebbe mai più provare a entrare dentro Entrare in un treno tutto chiuso Cioè, spento Troppa neve Saranno venuti giù almeno 20 centimetri Da quando poi l'hanno ripulito Quindi, mamma mia Secondo me, non dico un metro, ma quasi Questa panchina qui Questa panchina qui, mi sa che non la puliscono da quando è iniziato a nevicare E boh, qui, 30 centimetri I neve sono tutti Però volevo chiedere se avevano informazioni sul treno di Fran Che fermo Niente, fine di un altro giorno Quindi, riassuntino Perché non l'avessi capito, Francia ha perdito prima E ha preso un treno che ha avuto un miliardo di problemi Si è bloccato Problemi al cambio Problemi al sottopassaggio Neve, appalate Adesso sembra essere ripartito Quindi speriamo Certo, ritardo di 5 ore Del resto giornata normale Quindi ci vediamo domani, penso Con l'ultimo giorno Niente Finito Io non so se riuscirò a costruire C'è questo che si chiama abbastanza tondo C'è una sensazione di gente Mezza segreta quasi Sì, no, no, ma dico Ma lei È una foneria E' un bravo che mi riuscire Come mi arcio Con le gambe E' a cammino E' un bravo che mi riuscire No, ma va bene così E' appena nato Ah, eccolo che è Che, 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 che E' un buon E' un buon E' un buon Un buon La bambina si andrà del diritto Che sorriso Vi devo dire Quindi conti di questi giorni qui Bardodin che mi è anche piaciuta Anzi non anche Mi è piaciuto Peccato per oggi Che dovevamo fare tipo una monorotaia Però chiamano di bagnarci tutto Come conclusione di questi giorni Mi ritengo soddisfatto Come sempre Quindi se lo farò uscire questo video E se siete arrivati fino a questo punto Vi saluto Vi ringrazio E noi ci vediamo Al prossimo video Al prossimo avventure Al prossimo tutto Ciao